ben ritrovati fedeli followers della farei film e film avevo promesso martedì al termine della recensione della clamorosa ultima puntata della prima parte dell'ultima stagione di bettere col sole che ho promesso oggi avreste visto di nuovo per la recensione dei primi due episodi obbio anche nobio uscita questa mattina in contemporanea lo sappiamo l'ho già detto con la quarta stagione primi episodi della quarta stagione di stranger things la recensione arriverà anche in quella ma con molta più calma visto che gli episodi sono di più e sono lunghissimi sono praticamente sette film una roba del genere concentriamoci però su obbio anche nobi serie che attendevo anche di più rispetto stagione rtings tutto l'amore per stagione rtings però obbio anche 9 per gente come me è nata vuol dire negli anni 90 intorno a metà degli anni 90 la trilogia di mezzo di star wars quella da tutti ristrattata odiata è quasi una pietra miliare insomma sono i film che hai visto il cinema quando avevi 12 15 anni sono quelli che ti hanno lasciato un'impressione mostruosa soprattutto il terzo film come dopo l'ordine 66 cioè un ragazzino un bambino che si parla con che gli anni 90 non può non rimanere fortissimamente impressionata da soprattutto appunto dal terzo film soprattutto dalla seconda metà del terzo film per cui obbio anche nobi era la serie che attendevo di più da quando l'hanno annunciata dico subito che non sono rimasto deluso il primo episodio mi sono piaciuti c'è molta azione molto adrenalina molto obi anche nobi molto poco obbio anche nobi perdonate il controsenso adesso mi spiegherò mi spiegherò subito la recensione sarà come sempre divisa in due parti non spoiler e spoiler ovviamente tra l'altro pensavo uscissero alle 9 di mattina stamattina verso le 7 e mezza guardo erano già fuori per cui meglio mi sono già messo a guardarle visto che non avevo un tubazzo da fare mi spiego dicevo molto obbio anche nobi poco obbio anche nobi nel senso che obbio anche nobi è assoluto protagonista c'è lui sempre lui quasi esclusivamente lui in scena ma 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 sono passati dieci anni sono passati dieci anni dai fatti da quel famoso ordine 66 dalla vicenda con anakin skywalker c'è un bel previously di quasi cinque minuti all'inizio del primo episodio che vi invito a recuperare anche se non mostrare di nuovo che fa sostanzialmente un riassunto della trilogia di mezzo è sempre un bel un bel vedere sono passati dieci anni sono passati dieci anni e obbio anche nobi è diventato ben che nobi quello che poi noi vediamo nella trilogia originale nel primo film una nuova speranza la trilogia originale è stato ben che nobi ha abbandonato la forza non vuol più sapere nulla degli gedi gedi sono morti quante volte lo dice in questi primi due episodi l'ordine non esiste più gli gedi sono cosa del del passato per cui praticamente non abbiamo anche nobi uomo non gedi la forza non la usa la forza rimane qualcosa di spaventoso quasi che allontana ripudia lo vediamo già nei trailer non sono spoiler c'è un gruppo di inquisitori che abbiamo già visto in altri momenti di star wars gruppo di inquisitori che dà caccia agli ultimi gedi per cui anche solo per questo la forza gli gedi devono essere lasciati nel passato sappiamo che obbio anche nobi ha il compito di tenere d'occhio diciamo così luke skywalker lo abbiamo visto alla fine del terzo film quando dice a ioda che avrebbe portato via entrambi luke e leila ma lui si sarebbe concentrato su su luke l'avrebbe custodito avrebbe fatto suo angelo custode per quello è il suo compito semplicemente guardare da distante e non di conseguenza farsi sgamare da questi inquisitori perché altrimenti il suo obiettivo fallirebbe chiaramente non tutto va a secondi piani altrimenti non ci sarebbe questa serie televisiva che mi ha sorpreso però mi ha sorpreso perché c'è una svolta un momento inaspettato e che sarà poi il centro ovviamente di tutta e tutta la trama che che mi è piaciuto molto che mi è piaciuto molto poteva essere brutto lo stesso personaggio diciamo che insieme a bimbo anche nobi è protagonista di questo di questa svolta per come è stato costruito per quello che dice per come si comporta per questo atteggiamento poteva essere brutto arrogante sfrontato ti faceva venire voglia di di spegnere la televisione invece mi è piaciuto molto c'è una bella chimica tra questi due personaggi credo uno è bimbo anche nobi l'altro lo dirò poi nella parte spoilerosa molto molto bello molto molto divertente molto molto tenero e affettuoso anche molta azione ripeto molta adrenalina c'è un patos continuo questa caccia all'uomo che che scappa che si nasconde che non si vuol far vedere che non si deve far vedere questi inquisitori che lo cercano cercano di jade in generale invece questa tensione questa adrenalina questa sensazione come nel terzo film di qualcosa di tragico che incombe no di tragedia imminente una cappa pesante che non lascia quasi respirare il tutto ovviamente aumentato così ingigantito da queste atmosfere dalle ambientazioni queste città come dire all'atto di forza futuristiche al neon brutte sporche cupe quasi protagoniste come fossimo in un film di michael manna come fossimo in blake run hanno protagoniste co protagoniste in in quasi uniscena veramente molto molto ben fatto ottimo lavoro guardate guardate assolutamente i fan di star wars non me lo devo nemmeno dire ma anche se non stai fan di star wars se magari mandaloria nei boba fett non vi sono piaciuto non vanno convinto di tanto ecco qui torniamo torniamo a ragionare qui torniamo come dire a svecchiarci a a riprendere in mano i vecchi miti di star wars e la cosa non poteva non funzionare oddio poteva non funzionare per fortuna funziona poi di secondi e metto per spoiler uno due soprattutto su questo co protagonista inaspettato non mi sarei mai immaginato anche perché nei trailer se non sbaglio adesso l'ho visto di sfuggito al trailer proprio perché non volevo farmi troppo spoiler non mi pare di averlo visto sto parlando di leia e skywalker lei organa come essere come è chiamata diciamo così che ecco protagonista e questa sarà la storia dei dei di questi più di questa miniserie di obi wan kenobi un obi wan kenobi che è costretto ad andare a salvare lei lei ha che è stata rapita stata rapita dagli inquisitori perché vogliono stanare obi wan e in particolare l'inquisitrice rava perdonate se ho pronunciato male adesso mi sfugge sono abbastanza casato per cui certi nomi sono scappati rava che è assolutamente arrogante senza alcun tipo di scrupolo molto molto sit molto molto cattivo un personaggio che mi piace un personaggio che darà del filo da torcere a obi wan è un personaggio che lo dice lei esplicitamente mira a entrare nelle grazie di dar vedre che noi non vediamo praticamente sono nell'ultima scena magnifica sentiamo il suo respiro vediamo i suoi occhi si aprono se c'è ancora un collegamento mentale una sorta di percezione che mi sente quando nell'ultima scena obi wan pronuncia il nome di di anakin momento che è anche straziante e anche straziante però insomma questo lei deve andare a salvare lei ha costretto ad uscire dal suo anonimato dalla sua bolla di noi appunto anonimato che si è costruito per non farsi più vedere per poter controllare per poter guardare per poter far l'angelo custode di di luke e così andare a salvare la sorella di luke lei ed è una cosa inaspettata non me lo sarei aspettato persone di lei è un personaggio che può sembrare arrogante che può sembrare a poter fare quelle quel pruritino che ti farebbe voglia ti fa venire voglia di spegnere la televisione ma funziona ma funziona un bel personaggio un bel personaggio perché noi dietro lei ricostruiamo tutto quello che già sappiamo di lei della trilogia originale della trilogia di mezzo viene nominata evocata più che nominata padme per cui dietro questi personaggi noi abbiamo tutta una storia abbiamo tutto un passato abbiamo tutta una serie di azioni di fatti che danno profondità non c'è bisogno di parlare troppo di descrivere troppo questi personaggi perché già sappiamo immediatamente chi sono e sappiamo i passi che compiranno in futuro e questo ci fa amare personaggi anche personaggio come lei che così di 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 istintivamente forse non sta non può stare a tutti simpatico proprio perché per il suo modo di fare per il suo modo di parlare per la sua saccenza per la sua quasi arroganza in certi casi è un personaggio che dimostra già una certa come dire abilità nell'uso della forza quasi ed è lei stessa a spingere Obi-Wan a riscoprire questo della forza in una scena Obi-Wan vi dicevo non non usa la forza in questi due episodi non è più il giro dice lui stesso mille volte non è più quello Jedi che abbiamo conosciuto e che tutti hanno conosciuto e di cui tutti hanno il mito Obi-Wan che è l'ultimo degli Jedi l'ultimo di una specie non è più quella persona lì è diverso però però gli eventi lo costringono a tirar fuori a rispolverare quel vecchio Jedi si vede appena 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 spero ovviamente proprio per il discorso che facevo prima a noi nati negli anni 90 cresciuti in anni fondamentali della preadolescenza e adolescenza con i film di Star Wars amiamo Obi-Wan Kenobi amiamo quell'uso della forza anche un po' troppo spettacolare forse forse con quelle spade laser che vanno da tutte le parti appunto in maniera forse un po' troppo spettacolare ma è quello con cui siamo cresciuti è quello che ci ha lasciato una forte impressione di quello che vogliamo vedere anche in questa serie tv io ho detto Rava il cattivo funziona benissimo lei usa la forza in quel modo lì Obi-Wan deve sciogliersi un po' chissà se arriverà a sciogliersi spero di sì perché mi piacerebbe molto vedere anche Obi-Wan di nuovo combattere in quel modo lì e sono curiosissimo di vedere come andrà avanti questo salvataggio che non sarà facile di lei a questa caccia all'uomo di Obi-Wan e lo spettacolare di Darth Vader Anakin Skywalker evocato nel finale dell'episodio che è lì che incombe incombe su tutti con i suoi occhi che si aprono con il suo respiro pesante artificiale celeberrimo serie assolutamente promossa non vedo l'ora che sia venerdì prossimo per vedere il terzo episodio noi ci vediamo nei prossimi giorni non so ancora esattamente quando con Stranger Things quarta stagione prima parte e venerdì prossimo appunto col terzo episodio di Obi-Wan Kenobi tanta tanta roba ciao